La situazione in quest'Aula purtroppo è assolutamente simmetrica alla situazione che si è creata in Commissione Bilanci, dove rispetto a provvedimenti fondamentali per la vita delle persone si è deciso, con voti a maggioranza, quindi con l'arroganza di questa maggioranza, di rinviare a seduta successiva e quindi a provvedimenti successivi iniziative fondamentali per la vita delle persone, quando invece non si è avuto la bontà, ma soprattutto l'intelligenza politica di affrontare subito questi temi, ma si è avuto il tempo di affrontare tutti quei temi con tanti piccoli microinterventi territoriali, specifici, legati ad associazioni di cui sinceramente ne potremmo fare volentieri a meno, ma di fronte a quella che è la dignità della persona, questa maggioranza, il Partito Democratico e i partiti che sostengono il Partito Democratico e il signor Matteo Renzi hanno deciso di dare un calcio a tutti gli emendamenti che avevano come oggetto questo punto. Questa è la verità. Ed è inutile, signor Onorevole Causi, che lei ci venga a spiegare i numeri in quest'Aula, perché sono giustificazioni fine a se stesse che cercano solo e soltanto di coprire le cose indecenti che avete messo in questa legge di stabilità.